Avessi avuto preoccupazioni per la mia vita, non avrei minimamente continuato su questa linea, quindi non sarà questo attentato a fermarmi, a cambiare la mia modalità di approccio e di visione in sostegno sia di noi che dei palestinesi e delle palestinesi. L'aggressione del chef Rubio ieri? Non conosco nessuno che si chiami così. Se invece parla di quell'esponente politico che aggredisce puntualmente Israele con parole di ferma violenza, mi dispiace umanamente l'aggressione, ma credo che... Si è meritato. No, non ci merito nemmeno. Questo è quello che mi hanno fatto, mi hanno aspettato fuori casa e mi hanno massacrato di botte. Questo attentato terrorista perché di questo si tratta, visto che chi è venuto, un gruppo organizzato, ben preparato e che sicuramente aveva fatto degli appostamenti nei giorni precedenti, nelle abitudini che avevo e che ho prima di entrare a casa. Mi aspettavo lì dal pomeriggio, comunque da poco prima dell'intervento, perché sapevano tutti che avevo un impegno per la NACBA, per la commemorazione della NACBA, un incontro a Cassino con la comunità palestinese di Cassino, che saluto e che è stata veramente squisita sia quel giorno che a seguire. Gli orari erano ben noti a tutti, erano ben noti alla brigata ebraica, erano ben noti alla LED, erano ben noti alla comunità ebraica, erano ben noti a tutti i sionisti che mi seguono e che da anni mi perseguitano sia via social che per vie giuridiche, per cercare di tacitarmi, quindi la matrice è ben chiara, senza che giriamo intorno alle parole e alle possibili ipotesi. C'è stato anche da parte mia uno sfidarli direttamente il 25 aprile, quando hanno provato a riscrivere la storia, quelli della brigata ebraica a Porta San Paolo, alle sette e mezza di mattina, di questo non mi mento, ma insomma credo che sia estremamente interconnesso, perché la brutalità e l'organizzazione delle persone che hanno cercato di farmi fuori era la stessa con cui si erano presentati in prima fila, capeggiati da David Parenzo e sostenuti da Ruth Dureghello, Riccardo Disegni, Riccardo Pacifici e tutta la comunità ebraica, quei criminali della brigata ebraica e della LED che erano in prima fila e dai quali siamo stati di fatto salvati dal cordone di polizia, perché se ci avessero aggredito eravamo altamente impreparati, sotto numero e meno organizzati, quindi il dissenso ha dato adito poi a loro di lanciarci latte di fagioli di mais, bombe carta, è stato anche sequestrato un martello in quella giornata, ovviamente la comunità ebraica si è subito discostata da quell'arnese dicendo che erano infiltrato e quindi penso che quella giornata i miei successivi tweet abbiano di fatto lanciato la condanna e cinque giorni prima del 15, quindi il 10, un altro tweet ricordava l'impegno che avevo preso con Cassino, con la comunità palestinese e con Stefania, che ringrazio, la donna, la mamma di una studentessa che mi ha chiamato alle armi, ovviamente armi simboliche di cultura e di informazione perché questo incontro avvenisse e quindi ho invitato la led a venire, mi raccomando, però venire senza martelli e non hanno letto bene il tweet e non hanno letto il luogo dell'appuntamento perché invece di venire a Cassino non hanno aspettato fuori casa di mia madre e quindi è andata pressoché così, non so se avessero un informatrice o un informatore in mezzo alla platea per dettare i tempi della mia ripartita da Cassino, però è stato tutto estremamente clinico sono partito intorno alle 8 da Cassino e non so se ero seguito, non ci ho fatto caso non vivo con la paura di chissà cosa, quindi guardo sempre avanti, certo sono accorto ma non pensavo che sarebbero arrivati ora, immaginavo in un futuro, ma non adesso a fare questo e sicuramente c'era qualcuno pure al casello di Monteporzio dove sono uscito perché i miei parenti sono riusciti ad entrare, uscire dal cancello, dal loro sabotato fino a poco prima dell'attentato, quindi c'era sicuramente un'ottima coordinazione spazio-temporale con una logistica ben studiata e quando sono arrivato a ridosso della casa, del cancello di casa ho cercato con il telecomando di accedervi solamente che non funzionava, non il telecomando ma il cancello ho provato più volte col braccio fuori dal finestrino e a quel punto ho cercato di chiamare mio padre per capire se potesse venire a sbloccarlo manualmente perché da fuori non riuscivo e come ho attaccato, ho avuto come la sensazione di venire tamponato da un motorino perché questa è stata la sensazione, non so se sia stato veramente così o con una macchina a bloccarmi la retromarcia non ho sicuramente la possibilità di verificarlo perché non c'erano a ridosso delle telecamere di sorveglianza perché non viviamo da complessati come fanno i sionisti che distribuiscono poi questi mezzi in tutto il mondo dopo averli provati sulla pelle dei palestinesi e quindi ho sentito questo forte tamponamento, questa forte botta e poi i vetri che scoppiavano dalle mattonate e ho iniziato dal lato sinistro dove non so se loro si aspettassero che io scendessi dalla macchina per poter andare a vedere da vicino se poteva funzionare il telecomando questa può essere stata la mia salvezza perché dentro l'abitacolo i polpi e le mazzate sono state forti ma non letali e questo cambio di programma credo che abbia fatto avventare il criminale terrorista sionista alla mia sinistra con tutta la sua ferocia sul mio occhio cercando di arrivare al piano 2 se non quello di uccidermi almeno quello di sfregiarmi insomma è un marchio di fabbrica sionista quello di sfregiare le proprie vittime e niente, mi ha spaccato il finestrino con la mattonata dall'altro lato sono andato di riflesso e dall'altro lato hanno spaccato il vetro con un martello e mi hanno andato in fronte e in fronte qui sopra e poi sono ritornato dal lato dove c'era quell'altro che era molto scoperto e lo potrei tranquillamente riconoscere e se solo mi venissero fatte vedere delle schede segnaletiche dalla Dicos come mi era stato promesso ma ancora lo sto aspettando e a un certo punto quelli che erano entrati dal finestrino di destra e quelli che riuscivano ad infilarsi con le mani al finestrino di sinistra mi tenevano le braccia ferme e questo ha cominciato a colpirmi decine e decine di volte sull'occhio e ho cercato ovviamente di liberarmi di provare a mettere la retromarcia per investirli o insomma levarmi da quella situazione di impasse non ci sono riuscito perché mi hanno strappato la mano dalla chiave ho cercato di far partire una chiamata X alle prime chiamate a disposizione ma ovviamente non è andata bene e dopo qualche minuto perché alla fine mio padre ci ha messo due minuti e mezzo da che vi si vestiva e arrivavo al cancello insomma sono riuscito a suonare un claxon come mossa disperata perché non si stavano fermando cioè non avevano intenzione di fermarsi e a quel punto credo che la loro orgia terroristica sia stata rivestata dal suono e pensavano che fosse molto più vicino l'ingresso di casa, delle case perché vivo in un condominio purtroppo lì è un angolo balordo un angolo cieco, un buio c'è vicino Villa Aldo Brandini si erano sicuramente nascosti nelle reti aperte negli anni dal passaggio di Cinghiali all'interno di Villa Aldo Brandini che costeggia via Telecono ma purtroppo non ci ho fatto caso sono andato diretto verso il cancello non ho portato la giusta attenzione e niente quindi mentre cercavo di scalciare di difendermi alla fine qualche pugno l'ho dato ma a quello a botto ho scoperto quindi eventualmente qualcosa se lo ricorda pure lui ma per il resto ne ho preso tante e alla fine non vedevo più niente perché avevo il sangue addosso la prima cosa che ho cercato di fare è raggiungere quelli che sono riusciti a sfuggire per ultimi con la moto in direzione via 24 Maggio in direzione 4 strade per poi riscendere sicuramente verso la Nannina e ritornare se non al portico d'Ottavia a casa di chi gli aveva dato l'ordine e niente poi è arrivato mio padre che non si era accorto di nulla perché era finito dopo due minuti e mezzo l'agguato e ho fatto al volo quelle testimonianze che altrimenti non avreste avuto e per le quali alla fine ne stiamo ancora parlando altrimenti sarebbe stata un'aggressione per N motivi non si sa cosa e sarebbe stato tutto ancora più ridicolizzato e minimizzato dalla stampa mainstream peggio di quanto non abbiano già fatto e siamo andati all'ospedale e niente poi sono stato piantonato dai carabinieri che si sono preoccupati seriamente della situazione però senza che mi diagnosticassero il trauma orbitale è plurisfaccettato e non poteva partire la denuncia anche se poi dopo in automatico credo che dopo 20 giorni dopo 30 giorni di prognosi debba partire e il giorno dopo sono andato a Tor Vergata dove mi hanno operato ma prima dovevo fare un incontro con la massilo facciale e vedere che tipo di lesioni potessi aver avuto sono ritornato a casa e avevo la Dicos a casa che ha fatto le sue considerazioni ha preso le note di quello che era successo secondo quanto mi ricordavo e ovviamente immagino che non sia molto semplice ricordare questi minuti concitati qualcosa di sfugge pure sia nel numero degli aggressori che secondo me è molto di gran lunga numeroso sia nei vestiali perché ricordo sicuramente dei caschi integrali ricordo dei colti coperti tranne quello dell'aggressore più vicino che era evidentemente il capo che mi urlava pezzo di merda muori e così ti impari due o tre volte poi dopo non mi ricordo non so neanche se ho perso sensi ma credo di no perché l'istinto di sopravvivenza è stato più forte e niente poi sono ritornato a casa e quindi c'era la scientifica hanno preso non voglio dire in maniera approssimativa hanno preso alla bene e meglio le testimonianze dei miei parenti e hanno sequestrato i vestiti e le scarpe con cui mi ero difeso speriamo che qualcosa ci possa essere nel database ma non nutro la minima speranza nelle indagini e nemmeno nella cattura dei colpevoli e dei mandanti questo è più o meno quello che è successo il 15 di maggio tra le 21 e 16 le 21 e 25 l'operazione al cavo orbitale nello specifico al piatto orbitale è stata molto complessa più complessa di quanto si aspettassero perché le fratture erano scomposte erano molteplici e quindi sono stato da che dovevo essere il primo mi hanno spostato per ultimo per avere più tempo a disposizione quindi a parte ringraziare l'equip del del chirurgo Enzo non mi ricordo il cognome ma insomma abbiamo chiacchierato quindi mi ricordo il suo nome tutte quante le figure che lo hanno accompagnato che insomma hanno permesso di far riuscire l'intervento a loro dire nel migliore dei modi vediamo il decorso però insomma mi fido di loro non ho una laurea in chirurgia ma stilo facciale quindi dobbiamo affidarci a chi ne sa più di noi alle loro esperienze mi sono risvegliato che continuo ad avere la diplopia che è quella sensazione di sdoppiamento perché c'ho all'occhio che comunque è andato un po' a farsi portere verso destra vediamo come riprenderà le sue funzioni simmetriche non ho perso la vista fortunatamente le lesioni erano solo a livello facciale e l'occhio la retina è salva quindi per fortuna e mi hanno ricucito in testa perché i punti erano messi un po' alla cazzo al pronto soccorso con tutto rispetto per chi me l'ha messi ma perché avevo una faccia decisamente più smostrata e quindi credo che questo secondo passaggio fosse necessario però è andato tutto bene insomma diciamo che per un po' non so quanto mi porterò i frame prima di addormentarmi della situazione dell'agguato però a livello di umore sto molto bene insomma o meglio sento di essere così poi ovviamente siamo umani quindi le cose il corpo ce le rilascia ce le rilascia col tempo e quindi l'intervento è andato bene e l'umore è ottimo per quanto riguarda la mia storia personale questo attacco ha inizio nel 2017 quando discoveri Laura Garafoli e Marinella Soldi oggi alla RAI presero le distanze pubblicamente dal sottoscritto quando attaccai di risposta alle menzogne del rabbino capo della comunità ebraica di Roma che definiva palestinesi la ventrice internazionale del terrorismo quindi da lì in poi c'è stata una sorta di segnale pubblico una volta prese le distanze che io potessi essere tranquillamente un bersaglio perché se solo avevo avuto l'ardire di poter accostare non solo ai sionisti ma anche alle comunità ebraiche quindi la parola ebreo che è tabù ancora oggi per tante compagne e compagni per tanti antagonisti per tante realtà politiche come se fossero esenti dai legami col nazifascismo come se fossero esenti dai legami col sionismo dal filo diretto che li lega ai coloni ebrei che vanno ad occupare la palestina da lì è iniziato tutto quanto perché ho iniziato appunto ad essere attaccato dai giornalisti ad essere disumanizzato ad essere mobizzato censurato ho perso lavori ho perso sostegno sicuramente da quelli che facevano finta di stare con la palestina ma solo per stare con la palestina per avere un'identità e non perché la palestina potesse veramente venire liberata e questo è stato un continuare fino ad oggi insomma le calugne la diffamazione per mezzo stampa ha fatto il resto quindi i maggiori responsabili di tutto questo di questo attentato terroristico di questo attentato omicidio sono sicuramente i giornalisti e le giornaliste che hanno copiato e incollato quello che gli veniva detto dalle lobby ebraiche e dalla mafia sionista che gestisce di fatto i media mainstream fortunatamente esistono in realtà come la tua giornalisti e giornaliste indipendenti che cercano di fottersene delle minacce sono costretti a relegarsi in piccoli spazi di blog pur di continuare a dire la verità e quindi massimo rispetto a tutti i giornalisti e le giornaliste che continuano a tenere fede alla loro missione però per il resto sono tutti corresponsabili di questo schifo come anche le comunità ebraiche sono corresponsabili di questo schifo perché hanno sempre cercato di di legge hanno sempre cercato di non prendersi la responsabilità del loro sostegno diretto al genocidio del popolo palestinese che viene alimentato con disumanizzazione come con la mia soprattutto con quella degli arabi e dei musulmani e dei palestinesi in particolare per mezzo stampa per media per radio sono tutti colpevoli tutti colpevoli e di conseguenza per quanto mi riguarda questo è semplicemente fare un 2 più 2 non c'è bisogno degli incoerenti non c'è bisogno degli indagini se devo immaginare chi fosse quel battaglione che è venuto a cercare di farmi la pelle questo lo so io lo sanno anche loro ma da vili quali sono rimarranno dentro le loro mura a cercare di fare le vittime se io fossi morto cosa ci sarebbero state le marce che candele con il borto del rubio e automaticamente diventavano ariconi ragazzi ricordiamoci che Vic non se lo inculava a nessuno gli dicevano che era una merda finché non è morto era insultato e odiato anche dagli stessi compagni e delle stesse compagnie solo quando è morto poi dopo è diventato simbolo fortunatamente grazie a lui che è stato il primo che ho incontrato per lettura è riuscito a dare il segno ma che dobbiamo aspettare che le persone muoiano per sollecitare qualcosa nel nostro intimo cioè cosa deve succedere l'irreparabile per poi dopo che fare un graffito un murale su un fumetto una cosa e dire ah che peccato cioè nel senso siamo in vita possiamo fare tante cose e tutti con le nostre capacità possiamo fare il nostro se non stiamo facendo il massimo dovremmo interrogarci se veramente vogliamo questa palestina libera se vogliamo questo mondo libero dal zionismo quindi io mi sento mi sento di di prendere totalmente le distanze da questo atteggiamento collettivo e spero che questa 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 schifosa e vile aggressione che viene comunicata così come aggressione dai media mainstream e non come un tentato omicidio in attacco terroristico possa veramente iniziare a smuovere ma non le masse i singoli perché la massa si forma di tanti singoli e se i singoli non sono preparati se i singoli non sono pronti a capire che le accuse che gli vengono mosse contro colme antisemitismo sono le grossissime cazzate automaticamente rimarranno zitte e buone l'antisemitismo non esiste perché esisteva quello che c'era prima ma adesso è stato preso in consegna dai sionisti è un'arma a doppio taglio con cui si cerca semplicemente di tacitare chi cerca di indicare anche come corresponsabili del genocidio in Palestina e di tutte quante le forme repressive qui in Italia le comunità ebraiche le comunità ebraiche si riconoscono nella colonia sionista le comunità ebraiche non rinunciano l'idea che possa essere smantellata e smantellata vuol dire che non esiste più Israele non esistono più le bombe atomiche di Israele non esistono più i muri di 6 metri non esistono più checkpoint e non esiste tutto quell'apparato che si regge sulla morte e la distruzione dei nativi cioè non vuol dire bombardarlo vuol dire che quella terra deve ritornarsi a chiamare Palestina e tutti gli ebrei che ci sono adesso se disconoscono la colonia sionista possono rimanere se no se ne possono andare da dove sono venuti visto che il Jewish National Fund è quello che le spedizioni di 100.000 100.000 100.000 all'anno coloni ebrei che vanno lì per colonizzare nel nome nella folle visione biblica di questa terra promessa che altro non è che una una fandonia grossa quanto una casa quindi se non studiamo se non ci prepariamo noi saremo sempre vittime della loro brutalità della loro oppressione della loro forma di schiacciamento verso il basso perché se non si sa che i palestinesi sono gli unici semiti insieme agli ebrei marocchini etiopi eritrei che vengono considerati come carne frolla nel regime colonialista di apartheid di occupazione della colonia sionista non abbiamo studiato la storia quelli che stanno lì sono tutti a schiena ziti sono persone che vengono dall'Europa col mito del io sono bianco e sono meglio di te quindi l'osservatorio per l'antisemitismo è una cazzata anche perché è presieduta da sionisti è presieduta da ebrei sionisti e di conseguenza come può un organo essere imparziale quando cerca semplicemente di essere l'arma per tacitare chi cerca di raccontare la verità io ho 15 cause 9 penali adesso poi magari qualcuna arriverà e 5 civili non si scherza nel senso sono obbligato alla nulla tenenza da qui in avanti di che cazzo stiamo parlando perché ho detto la verità perché dico la verità e mi sono venuto a trovare pure a casa ritorneranno sicuramente succederà qualche altra cosa non lo so quando magari essendo un'organizzazione mafiosa aspetterà il tempo debito aspetterà il momento più giusto per continuare quello che hanno iniziato per finirlo o per continuare a terrorizzarmi a provare a terrorizzarmi quindi ma non è una cosa per cui io posso poi vivere di merda e vivere nella paura non sono io il problema il problema sono loro a parte ANSA nessuno ANSA serviva semplicemente ad alimentare clickbait con rubio pestato ma fino a ieri ANSA ha mentito ogni giorno della sua esistenza sul genocidio in Palestina da 76 anni ha mentito e ha provocato nella percezione pubblica questo odio antimusulmano e odio anti-arabo che è questa la cosa gravissima che c'è oggi in Italia e nel mondo in Europa più che l'antisemitismo che vanno cercando ogni volta con autosabotaggi con piagnistei semplicemente per spostare l'attenzione su quelle che sono le principali minacce la principale minaccia in Europa e nel mondo non sono gli arabi e non sono i musulmani ma sono quelli che diffondono odio antimusulmano e odio anti-arabo e tutti quelli che sostengono i musulmani e gli arabi sono un problema e di conseguenza anche il sottoscritto ANSA ha sempre intervistato rabbini comunità ebraica ambasciatori ma non ha mai io non ho mai letto un'intervista a una palestinese o a un palestinese perché io dovrei dare il mio tempo i miei contenuti e il successivo traffico online a chi sostiene di fatto le menzogne che vengono imposte dalle lobby sioniste per quale motivo? sì me l'hanno chiesto me l'ha chiesto ANSA ma le ho rispetite dal mittente perché non aveva senso sarebbe stata altamente incoerente però a parte ANSA nessuno hanno riportato timidamente aggressione sospetta bla 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 io non spaccio non rubo non bevo non vendo droga non faccio niente vado la mattina a lavorare in laboratorio io entro al pomeriggio e non ho nessun altro nemico di fuori dei sionisti quindi il cerchio si restringe drasticamente poi se ci mettiamo pure che compagni come Alberto Fazzolo ha provato a scrivere a guado sionista che riceve da compagni e compagnie chiamate di sdegno che dicono che non si ha la certezza che siano stati loro e che come può permettersi di scrivere quella roba ed è stato anche ingiuriato per quello che ha scritto contro la brigata ebraica per il 25 dove vogliamo andare se anche le stesse persone che si professano pro palestina contro il nazismo contro il nazifascismo contro il fascismo contro il totalitarismo poi alla fine cadono in questa in questa in questa schifosa dinamica dove vogliamo andare non andiamo a andare da nessuna parte non so se questo questo non movimento per il tentato omicidio possa simboleggiare la fine dei lavori ossia io ho fatto il mio esprimendo solidarietà per mezzo social o sul telefono e sto a posto con la coscienza oppure semplicemente rimboccarsi le maniche che non so e che pian piano può trasformare qualcosa però ripeto non avessi avuto preoccupazioni per la mia vita non avrei minimamente continuato su questa linea quindi non non sarà questo attentato a fermarmi a cambiare la mia modalità di approccio e di visione in sostegno sia di noi che dei palestinesi e delle palestinesi però mi chiedo se questa questo spartiacque almeno per quanto riguarda l'Italia perché a memoria io non me la ricordo a parte Dax che è stato ammazzato ma altre realtà purtroppo così violente non me la ricordo poi magari sbaglio e mi informeranno compagni e compagni però se possa essere almeno una scusa per essere più duri se non fisicamente almeno verbalmente a condannare chi è intorno e dietro a tutto questo perché se no altrimenti si vanifica pure lo sforzo di questo squadrone che è venuto fino a Frascati per fare quello che doveva fare non riuscendoci neanche e quindi abbiamo perso tutti loro non ci sono riusciti io sono sopravvissuto e rimane tutto uguale cioè nel senso non possiamo fare affidamento sui media mainstream ok per quanto riguarda però la parte antagonista la parte di lotta che cosa stanno facendo i compagni e le compagne cioè abbiamo fatto uno striscione stiamo a posto nel senso l'intensificarsi delle tende quando è previsto all'interno delle università italiane dove sono tutti quanti e tutte quante le studentesse capisco i figli di papà e le figlie di papà che magari non sanno manco che cosa sia la Palestina però tutti quelli che la pensano come loro perché non stanno insieme a loro nelle tendopoli e non impediscono veramente a personaggi schifosi come la sionista Polimeni di entrare all'interno della sapienza cioè non basta dimostrare di senso dicendo noi non ce l'andiamo cioè l'inzionismo non deve entrare nelle università non deve entrare nelle scuole i professori le professoresse non possono essere minacciati mobizzati allontanati perché parlando di Palestina dicono la verità nelle classi cioè tutto parte da lì tutto parte dalle scuole se non c'è una presa di posizione a livello didattico a livello accademico quindi di cultura tutto il resto è niente quindi io mi aspetto che le professoresse i professori le maestre i maestri i docenti le docente i baroni le barone le baronesse delle università comincino a stare dalla parte dei ragazzi e delle ragazze Seif Seif il ragazzo algerino che insegnava allo Chateaubriand è stato deportato in un CPR il CPR che dovrebbero essere chiusi cioè i CPR sono dei lager e senza togliere nulla tutti i fratelli che sono rinchiusi all'interno dei CPR che dovrebbero essere liberi adesso cioè un professore di una scuola privata francese con contratto indeterminato con asilo politico perché perseguitato politicamente in quanto faceva il giornalista giù in Algeria viene privato della fonte di sostentamento prima con sospensione poi con licenziamento e poi viene preso e attacciato di terrorismo chiuso in un CPR ma dove cazzo stiamo vivendo e noi ci lamentiamo della Russia ci lamentiamo della Cina ci lamentiamo di cosa dobbiamo parlare cioè fortunatamente adesso è libero ma c'è ancora il rischio del rimpatrio e quindi è una condanna a morte e questo ragazzo si è fatto mesi 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 di merda senza stipendio e se non ci avesse avuto il nostro sostegno il sostegno della gente dal basso perché adesso tutti i boni con Seif agli ultimi giorni perché faceva notizia del CPR allora parte sempre dal basso la lotta ricordiamocelo quindi vaffanculo gli accademici e le accademiche che si presentano e fanno il giro di cala all'ultimo e fanno il giretto all'interno del CPR cioè siamo tutti complici di tutta questa merda e non va bene e tanto a farne le spese se siamo sempre noi singoli o i collettivi dal basso che vengono criminalizzati e stigmatizzati senza la minima tutela della stampa spero che i movimenti antagonisti su Roma Napoli Bologna Genova chiunque voglia cambiare qualcosa insomma si dia una mossa perché così andremo di singolo in singolo di martire in martire ma dopo alla fine si sposta l'attenzione tutta sul rubio di turno e non sul reale problema è questo che vogliono cioè io non sono un martire non sono né una vittima né un eroe io sono semplicemente un essere umano che cerca di portare avanti le proprie idee e sono fatte sono idee di giustizia sono idee di uguaglianza e sono totalmente antirazzista sono totalmente anti qualsiasi tipo di oppressione quindi se questo è un motivo per venirmi a massacrare interroghiamoci su su cosa stiamo facendo perché questo non avvenga più perché altrimenti succederà e ripeto se non succederà per finire il lavoro con me succederà con qualcun'altro o qualcun'altra grazie a tutti